Qualche anno fa questa struttura era in completo disfacimento, stava addirittura quasi per crullare. Parliamo della scuola materna Maria Montessori, ora c'è il centro culturale Nicola Irti. In questa struttura c'è ora una mostra bellissima, si chiama Liberi e Creativi, una mostra didattica. Siamo con la professoressa Francesca Principato, insegnante della media vivenza, dell'istituto comprensivo vivenza Giovanni XXIII di Avezzano, che appunto ha allestito questa mostra. Allora, ho visto dei lavori qui dentro veramente di qualità. L'idea, quando è nata e che cosa ci ha voluto per mettere in piedi tutto quello che fra poco vedremo. Allora, l'idea è nata all'inizio dell'anno scolastico, quando abbiamo programmato questa, diciamo, iniziativa, che comunque doveva includere tutti e quattro i plessi, diciamo, della scuola media vivenza Giovanni XXIII. Il locale, abbiamo apprezzato tantissimo questo locale, diciamo, ristrutturato e abbiamo quindi deciso di effettuare questa mostra qui, in questi locali. Naturalmente, ci sono dei lavori che sono poi il frutto di tutto quello che è stato fatto durante l'anno scolastico. Abbiamo lavorato molto, i ragazzi hanno dato veramente tanto. Abbiamo lavorato in maniera interdisciplinare, anche con metodologie particolari, tipo la flip head classroom, quindi a classe aperte. Ci siamo raccordati e abbiamo comunque cercato di tirar fuori dai ragazzi il meglio, le loro potenzialità. E quindi siamo riusciti a mettere su questa mostra che speriamo, insomma, venga apprezzata un po' da tutti. Ragazzi di pochissimi anni, quindi giovanissimi, la maggior parte, quasi tutti, diciamo ragazzi normali, ma c'è anche qualcuno che ha difficoltà. E noi stiamo vedendo una serie di realizzazioni, di lavori, di un ragazzo che ha delle difficoltà. Ma guardate che cosa è stato capace di fare. Professoressa Principato, quindi l'aiuto che date voi a questi ragazzi è fondamentale. Dunque, è stato interessante questo lavoro perché comunque questo ragazzo guidato dal collega, il professor Marco De Foglio, è riuscito il professore a tirar fuori veramente ciò che ha dentro questo ragazzo. Un ragazzo che obiettivamente ha qualche difficoltà, ma con l'arte probabilmente è riuscito a esprimere se stesso. Ha riprodotto il professore con la collaborazione di questo ragazzo queste splendide opere astratte, prendendo spunto da Kandinsky, ma anche da Jackson Pollock con i famosi colori che sgocciolano sulla tela e partendo soprattutto da esperienze quotidiane del ragazzo, delle esperienze molto semplici come quelle di mangiare una merenda e utilizzare la carta per realizzare quest'opera d'arte, la prima, la numero uno, oppure schizzare del colore in maniera libera e spontanea in alcuni momenti di creatività del ragazzo. Ci spostiamo all'interno della mostra con un'altra insegnante, Laura Bianchini, che ha curato i lavori dei più piccini. Che cosa vi proponete in questo angolo? Allora, devo intanto dire che non l'ho curati da sola, ma in collaborazione con tutte le colleghe della Scuola dell'Infanzia Cianciusi e delle insegnanti di religione. In questo angolo noi abbiamo, come vedete, cercato di mettere il colore, quindi una nota più... Sì, lavorando sulla pace e lavorando, come vedete, sulla nascita del colore. Questo particolare lavoro ha vinto il primo premio nazionale Fibra Color, si vede che è un'esplosione di colori, poi abbiamo lavorato con tutte le varie tecniche, dal riciclo della carta, alla sovrapposizione, al frottage e abbiamo lavorato scoprendo l'arte. In questo caso Kandinsky, Klimt, riproducendo qualche mandala, che era un po' il filo conduttore della mostra per quanto riguarda i bambini dell'età compresa tra i 3 e i 5. Abbiamo fatto lavori tutti di gruppo, quindi i bambini hanno lavorato per laboratori a classi aperte e il risultato, spero, sia una bella nota colorata, ma soprattutto che sia una buona indicazione per un mondo più possibile proiettato verso la pace e l'armonia. Vi siete divertiti più voi insegnanti o i bambini? Mi viene spontanea questa domanda. Ci siamo divertiti entrambi. Noi abbiamo imparato tanto dai nostri bambini. Abbiamo imparato che la collaborazione si può avere a tutti i livelli, che non esistono steccati, non esistono recinti. E anche tra noi è stato bello scoprire una collaborazione molto fattiva. Un'altra insegnante è Rosalia Di Felice, che è anche architetto. E qui vediamo qualcosa che gli avezzani si dovrebbero conoscere abbastanza. È stato riprodotto su scala 1 a 50. Che cosa? Abbiamo riprodotto la villa romana presso la COP, presso i Marzi di Avezzano. Chiaramente abbiamo riprodotto soltanto una piccola parte e per una questione di tempi e per una questione anche di materiali non immediatamente disponibili, perché spesso in fieri decidiamo il da farsi come terminare il lavoro che abbiamo messo in cantiere. In effetti qua sta in primo piano la villa, mentre la parte laterale di Gradante, che poi tende a salire a Del Verde, al momento l'abbiamo lasciata così. Contiamo di completare questo lavoro con l'ausilio delle docenti di lettere, che comunque hanno curato tutta la parte informativa, tutta la parte fotografica. C'è stato tutto un progetto a monte di cui questa è stata soltanto la parte finale. per dare un prodotto insieme all'arco, insieme ad altri prodotti realizzati pure da insegnanti di altre discipline e quindi abbiamo cercato di dare un prodotto finale di tutto un percorso che credo sia iniziato nel secondo quadrimestre. Che tipo di materiali sono stati utilizzati qui all'interno della mostra? Insomma vedo di tutto un po'. All'interno della mostra io posso parlare prevalentemente per quello che i ragazzi hanno realizzato con me, però comunque dando un'occhiata vediamo che ci sono materiali per lo più di recupero e comunque parliamo di carta, cartoni, forse l'unico materiale un po' nobile tra virgolette, nel senso l'abbiamo dovuto acquistare da un costo, può essere la balsa. Tutto il resto è per lo più materiale di recupero e quindi abbiamo pure qui polistirolo, cocci, sassi, terra, materiale povero. Ripeterete questa esperienza perché io penso che ne valga la pena perché è anche un insegnamento per i più piccini, i bambini che oggi vengono a visitare la mostra? Oddio sicuramente i ragazzi, non solo chi viene a visitare, anche i nostri alunni apprezzano molto il lavoro manuale. La mia disciplina nello specifico poi è proprio un puntare l'attenzione anche sulle abilità oltre che grafiche, manuali, ma oltre che grafiche anche pratiche. Ho visto che hanno apprezzato molto, è stato però molto faticoso, però si dice anche che senza sacrificio non si raggiunge nessun risultato. Abbiamo lavorato molto noi, i nostri alunni, con grande dedizione. Vediamo, magari si potrà ripetere questa esperienza, forse con un po' più di supporto perché è stato davvero un gran lavoro. Nasce in Abruzzo la nuova frontiera della cyber security. Il progetto, nel quale risulta capofila con lo stabilimento di Chiediscaro, la società Leonardo, è stato presentato dal vicepresidente della giunta regionale Giovanni Loli, dal direttore strategie e tecnologie della divisione security di Leonardo, Giorgio Mosca, e dal professor Fabio Graziosi, in rappresentanza dell'Università dell'Aquila, altro importante partner dell'iniziativa. Il progetto prevede la formazione degli operatori specializzati delle aziende nel settore della cyber security, settore che proprio in queste settimane è soggetto a cambiamenti e piccole rivoluzioni. All'interno di questi cambiamenti, la regione Abruzzo, insieme con Leonardo, è destinata a recitare un ruolo di primo piano. I finanziamenti regionali, spiega il vicepresidente Loli, sono frutto del bando a rilevanza nazionale e ricerca e innovazione che abbiamo promosso nell'ambito del FERS, cioè il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il fatto che l'Abruzzo, grazie al progetto della Leonardo, sarà al centro di un processo di sicurezza dei dati che viaggiano su internet, lo si deve alla scelta politica di puntare tutto sulla innovazione e sulla ricerca delle aziende presenti in Abruzzo. È una scelta, ha aggiunto Loli, che non ha portato immediati posti di lavoro, ma che ha permesso a molte aziende di consolidare i propri investimenti in chiave futura. Per questo, a due anni da quel bando, possiamo dire che è stata una scommessa vincente perché è una scommessa che guarda al futuro dell'Abruzzo. Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di un dimostratore per la simulazione di reti, sistemi ed applicazioni in modalità realistiche con l'obiettivo di facilitare l'addestramento di responsabili ed operatori della Cyber Security, sia singolarmente che di gruppo. Il dimostratore simulerà scenari d'attacco consentendo di osservare e valutare il comportamento degli operatori e degli attaccanti ed avrà caratteristiche di elevata flessibilità e gestibilità. Maggiori dettagli nell'intervista con Giovanni Lolli e Giorgio Mosca. Giovanni Lolli, vicepresidente della Giunta regionale, lei ha parlato di un progetto visionario, anni fa partito praticamente dall'Università e da Leonardo, però la Regione ha poi creduto in questo progetto perché ha dato un importo, un contributo sostanzioso. Dunque la Regione ci è creduto fin dall'inizio perché grazie alla loro intuizione, quando di Cyber Security si parlava pochissimo, loro hanno partecipato, loro dico Leonardo e l'Università, hanno partecipato a questa selezione europea fatta dall'Agenzia Europea e hanno vinto, cioè sono stati selezionati nel nucleo ristretto per due condizioni che erano però essenziali. Una è che era relativa alla qualità del loro progetto, l'altra era che c'era una Regione, sta scritto nel provvedimento, che si era impegnata a finanziare questo tipo di attività. Una volta che sono stati selezionati, grazie a queste due condizioni, nel ristrettissimo nucleo di aziende certificate a livello europeo, noi poi abbiamo fatto il bando, un bando per progetti sopra 5 milioni di euro. Io vorrei che questo fosse particolarmente sottolineato perché in Italia nessun'altra Regione ha fatto un bando di questo genere. Lo stesso Ministero, il Mise, ha fatto sì il bando che è Horizon, 20-20, molte imprese abruzzesi hanno partecipato, ma è un bando che va da 1 milione, o meglio da 800 mila euro fino a 5 milioni. Noi abbiamo fatto questa scommessa, questo azzardo, di mettere una quota molto consistente nel nostro FESR, cioè nel fondo per lo sviluppo dei fondi comunitari strutturali, per finanziare imprese, sistemi di imprese, sistemi di imprese e centri di ricerca che presentassero progetti superiori a 5 milioni. Il successo è stato clamoroso perché il numero di imprese che hanno partecipato e che sono state selezionate dalla Commissione è nettamente superiore alle dotazioni che avevamo messo, tant'è che abbiamo ulteriormente finanziato per far scorrere la relatoria. Tra questi, nei primissimi posti, si è piazzato il progetto, questo progetto, diciamo, bollinato dall'Eda, fatto appunto da questo luogo fenomenale nel quale siamo, perché qua siamo in un'azienda che è un valore nazionale, perché qui c'è il centro di calcolo più importante che c'è in Italia, e dall'Università dell'Aquila che ha dato un contributo veramente significativo dal punto di vista tecnico e tecnologico. Oggi noi possiamo dire che l'Abruzzo si è candidato ed è diventato uno dei posti d'Europa, dei pochi posti d'Europa, dove si concentrano le tecnologie e la ricerca sulla cyber security. Cosa significherà questo in termini di caduta? Lo vedremo, certamente, siamo piazzati molto bene, perché qui si possono sviluppare tutte le possibili n applicazioni sulla cyber security, che vanno dalla sicurezza delle imprese, alla sicurezza dei cittadini, alla sicurezza delle strutture dello Stato. Senta Presidente, lei prima ha parlato di un azzardo quando si fece il bando di 16 milioni di euro, la dotazione di partenza sull'innovazione, su ricerca e innovazione. Se si vuole tracciare un primo bilancio, se si vuole tracciare un primo bilancio su quello che è stato non solo quel bando, ma anche tutta la programmazione legata alla ricerca e all'innovazione, lei come lo potrebbe valutare? Dunque, io sono ovviamente molto soddisfatto. Ho dei riscontri. I riscontri sono, per esempio, che il più importante gruppo industriale italiano, che è FCA, cioè Fiat per intenderci, ha deciso quest'anno di concentrare i propri investimenti sulla ricerca, oltre che nelle tre regioni storiche, anche in Abruzzo. E questo è testimoniato da un protocollo che abbiamo firmato al Ministero. Perché questo? Perché ha riconosciuto che in Abruzzo, grazie all'attività che abbiamo fatto con l'università, con le aziende, con il polo, in Abruzzo c'è un clima in cui investire in ricerca conviene. E quindi noi siamo nelle regioni in cui la Fiat investirà. E investiranno anche altre grandi strutture. Questo è una cosa molto importante. Naturalmente io so bene che in termini di ricadute occupazionali dirette gli investimenti sulla ricerca sono molto relativi. Perché noi stiamo investendo sulla trasformazione e il miglioramento e l'avanzamento tecnologico delle imprese. Ma la ricaduta che si avrà deriva dal fatto che in quei territori italiani ed europei, nei quali oggi si concentrano gli investimenti sulla ricerca, è in quei territori che si concentreranno le attività a supporto della ricerca o per sviluppare le attività di ricerca che si svolgeranno nei prossimi anni. Se non investiamo oggi, chi non sta investendo oggi in questa fase sulla ricerca, d'altra parte di intuizione e industria 4.0, questo ci ha spiegato, oggi investe, domani sarà fuori dal mercato competitivo. Noi in Abruzzo, secondo me, siamo piazzati davvero bene, naturalmente c'è sempre da migliorare per carità, perché abbiamo la fortuna di avere un sistema di imprese medio-grandi che ci hanno creduto, abbiamo un sistema universitario di centri di ricerca importanti e abbiamo avuto una regione, lasciatemelo dire, che ci ha creduto. Siamo con il dottor Giorgio Mosca della direzione, direttore strategico tecnologia e sicurezza dell'Aronarto. In che cosa consiste il progetto e soprattutto quali sono gli obiettivi? Il progetto riguarda un sistema di training che potrà essere applicato a aziende, amministrazioni, a tutti coloro che avranno necessità di formare le proprie persone a rispondere o ad addestrarsi a operare in ambienti di sicurezza informatica. È chiaro che questo è un tema all'attenzione di tutti, i rischi cibernetici, i rischi di sicurezza informatica che riguardano ormai qualunque azienda e quindi riteniamo che questo sia uno strumento che moltissimi avranno necessità di utilizzare. Abbiamo ipotizzato qualche anno fa, con il supporto dell'Accademia e con la collaborazione dell'amministrazione, la realizzazione di un progetto che ha un risvolto europeo, perché è stato approvato e riconosciuto dalla European Defence Agency e che ha un finanziamento regionale per la realizzazione di qualcosa che sia particolarmente flessibile e particolarmente innovativo su questo tema. Ingegnere, lei ha detto che il vostro è un mercato soprattutto internazionale, ma l'eccellenza abruzzese qui di Chieti rimane comunque centrale nel vostro progetto di sviluppo? L'eccellenza abruzzese è assolutamente centrale, non a caso qui a Chieti abbiamo il Security Operations Center e l'Intelligent Operations Center di Leonardo, che sono il nucleo centrale su cui operiamo su questi temi. È chiaro che il mercato è internazionale, anche perché la Cyber Security è internazionale, le problematiche di sicurezza cibernetica sono assolutamente globali, non sono locali, però le eccellenze locali e le capacità delle persone che ospitiamo all'interno dei nostri laboratori e del nostro Security Operations Center qui a Chieti sono assolutamente fondamentali, le eccellenze nazionali sono fondamentali per garantire una capacità di operare anche a livello internazionale. Le persone di Avezzano o comunque della Marsica che vorranno prendere e godere dell'ombra estiva, purtroppo a Piazza Torlonia quest'anno non ci potranno stare. Sono stati appaltati i lavori, 250 milioni a base d'asta, un ribasso quasi del 26%, l'impresa Saporito di Napoli o comunque della Campania ha appaltato questi lavori. Noi siamo qui proprio all'ingresso del cantiere con l'ingegner Gianfranco Granata e con l'altro ingegnere Sergio Di Cintio che conosciamo, che conoscete per altri motivi, diciamo più che altro sportivi, per fare il punto della situazione. Allora, siamo ormai in piena stagione estiva, qualcuno si lamenta, dice non possiamo andare a godere del fresco di Piazza Torlonia, ma insomma non si può avere, come si dice, la botte piena e la moglie ubriaca. Se bisogna lavorare, voi dovete per forza chiudere. Ingegner Granata, a che punto sono i lavori? Sì, intanzitutto un buongiorno a tutti. I lavori sono nel pieno dell'attività e stiamo proprio nella fase di realizzazione dell'impianto di irrigazione che è la fase più complessa, quella che ha costretto, diciamo, il sottoscritto e l'amministrazione a obbligare la chiusura di tutta la piazza anche se da qualche parte è raggiunta la critica che poteva essere chiusa parzialmente. Purtroppo questo di fatto non è possibile e creando quello che sappiamo, un po' di disagio nella popolazione, ma vedrete che alla riapertura potrete godere di una piazza che sarà più bella, più funzionale, con una vegetazione rinvigorita e quindi sono convinto che a seguito di questa mancanza poi la popolazione ne avrà un beneficio di gran lunga superiore e non solo nell'immediato ma anche nei prossimi anni perché ci sarà un sistema di irrigazione che garantirà una vegetazione e una salubrità dell'ambiente sicuramente superiore rispetto al passato. Non di secondo piano poi sarà tutta la ristrutturazione del parco giochi che vede adesso insomma delle attrazioni insomma un po' malandate un bel po' malandate diciamo la verità e quindi sarà una bella sorpresa per le mamme ma soprattutto per i bambini. Vedrete che avremo un parco giochi veramente di primo ordine. Consulente dell'impresa Saporito è l'ingegnere Sergio Di Cintio mi viene difficile chiamarti ingegnere perché io ti conosco portiere vabbè poi ne parleremo a parte portiere di calcio a 5 ma insomma polietrico quando si parla di sport. Consulente dell'impresa che cosa significa che devi fare gli interessi dell'impresa o gli interessi della città di Avezzano? Allora io diciamo così queste sono le classiche storie che sembrano scritte dall'inizio sono stato contattato proprio inizialmente dall'impresa per partecipare a questo bando ripeto come ha detto anche l'ingegnere un bando a base d'asta quindi le probabilità sono quelle poi che si giocano tutte le imprese che hanno partecipato loro è nata una simpatia tra noi e l'impresa e hanno scelto me diciamo per seguirli in questa fase poi il bando l'abbiamo vinto e quindi poi è ovvio che da Avezzanese e da persona che ci viene particolarmente poi a Avezzano è stato una cosa di doppio orgoglio aver vinto il bando e quello poi di poter sviluppare questa cosa insieme perché sapevo che l'ingegnere poi Granata era il direttore dei lavori insieme a lui fare qualcosa in più per Avezzano la cosa buona è che c'è un doppio occhio io dico che è il suo che è quello di direttore dei lavori e il mio che è quello dell'impresa che però verte tutto come dicevi tu oltre che per l'impresa anche per Avezzano è ovvio che si studieranno delle soluzioni si stanno studiando delle soluzioni ottimali non possiamo svelare nulla sul fatto del parco giochi ma come ha detto anche prima Granata sarà un parco giochi veramente molto bello e dedicato ai bambini e alle famiglie e questo quindi cercheremo di apportare tutte le migliori modifiche e migliorie per far godere al meglio alla popolazione di Avezzano questo parco che veramente merita a me io l'ho vissuto da bambino e quindi mi ricordo i vari sentieri il brecciato e ricreare poi con le siepi quei sentieri dove noi giocavamo da piccoli e viverli magari con i nipoti con i figli credo che per l'Avezzanese che l'ha vissuto è un qualcosa di importante insomma senti tu hai l'ufficio praticamente qui proprio sopra il cantiere è un vantaggio può essere un vantaggio è un super vantaggio credo che sia il primo cantiere che posso controllare dal balcone quindi mi affaccio verifico e rientro oppure se serve scendo Ingegner Granata tempi di realizzazione noi leggiamo nel cartello dove ci sono scritte tutte le indicazioni praticamente per la fine dell'estate riuscirete a tenere fede? No non solo noi riusciremo a tenere fede ma siamo fortemente convinti del fatto di poter anticipare la riconsegna dell'opera quindi l'impegno mio dell'ingegner Di Cintio dell'impresa e dell'amministrazione tutta è quella di riconsegnare l'opera in tempi antecedenti a quelli di contratto e stiamo lavorando veramente fermamente in maniera intensa affinché questo possa accadere ci teniamo tutti io personalmente l'ingegner Di Cintio anche insomma come persona abbastanza in vista di Arezzano anche lui ci tiene l'amministrazione proprio abbiamo una pressione costante dell'amministrazione affinché noi possiamo riconsegnarlo prima e io confido fermamente in questo aggiungo solamente un piccolo particolare del parco giochi perché è stato diciamo così omesso ma invece molto significativo che sarà un parco giochi inclusivo inclusivo vuol dire che tutti i bambini potranno accedere nella piena sicurezza e libertà e questo è molto importante per una città come Arezzano che comunque ha le ambizioni delle giuste ambizioni a livello regionale di avere un parco giochi aperto a tutti i bambini ma poi chi provvederà alla manutenzione all'ordinaria manutenzione? questo già abbiamo sentito gli uffici tecnici stanno già predisponendo degli appalti sia per la manutenzione del verde che per la custodia e la manutenzione del parco giochi quindi quello che viene fatto è importante che tutti i cittadini nel loro senso civico facciano in modo tale di mantenerlo e conservarlo ma l'amministrazione da parte sua sta già predisponendo tutti gli atti affinché delle imprese e delle ditte svolgano dei normali lavori di manutenzione per conservare l'opera così come verrà consegnata a fine lavori chiaramente senza un adeguato piano di manutenzione nell'arco di pochi anni chiaramente verrebbe tutto distrutto sicuramente ma secondo me basterebbero pochi mesi una domanda che non posso non farti conoscendoti da troppo tempo ingegnere per lavoro per mestiere ma sportivo a 360 gradi nel tuo DNA quando smetterai quei calzoncini corti e quelle scarpette con i tacchetti anche se sono tacchetti piccoli guarda quest'anno abbiamo chiuso il 28esimo campionato quindi almeno a 30 vogliamo arrivarci credo quindi dovremo sopportare ancora un paio di stagioni per due stagioni almeno speriamo di giocare Avezzano quest'anno almeno riusciamo a fare questi ultimi due anni ad Avezzano e poi si vedrà siamo venuti a trovare di nuovo gli amici della scuola del Sacro Cuore via Mazzini Avezzano siamo a fine anno e come ogni anno c'è il saggio di fine corso siamo con due insegnanti Laura Cipollone e Adelaide Morgante per parlare appunto di questo evento che ogni anno di questi tempi ai primissimi di giugno impegna tanti insegnanti ma anche tanti bambini e perché no anche tanti genitori allora Adelaide che cosa state preparando per quest'anno? Allora quest'anno abbiamo preparato un saggio sulla scia delle letterine perché i bambini si sono impegnati a conoscere la lingua la lingua che loro praticano e con i cinque anni addirittura abbiamo fatto proprio la prescrittura la prelettura i bambini invece di tre di quattro anni hanno lavorato sulle filastrocche sulle poesie sulle favole tutte quelle cose che vanno a comporre quella che è la nostra lingua madre e quella che poi fa trasmetterà la nostra cultura Laura quanto tempo ci vuole per mettere in piedi tutto quello che vedremo fra poco perché mentre voi parlate lo spettacolo ancora non è incominciato le immagini le metteremo da parte quanto tempo ci vuole? Un anno intero un anno intero noi iniziamo a preparare i bambini dunque la programmazione va a coprire gli interi nove mesi di scuola quindi andiamo da settembre fino a maggio e per noi è un filo conduttore quindi noi lavoriamo su quel filo conduttore inserendo poi le varie conoscenze e i mesi più impegnativi più densi di lavoro sono poi questi qui sono diciamo da aprile maggio giugno in cui ecco prepariamo i bambini ogni giorno con prove con collaboratori con attività anche ludiche guidate portando avanti questo discorso arrivando poi alla fine al saggio finale ma sempre tutto molto serenamente sotto forma di gioco senza caricare il bambino di ansie e quant'altro ecco c'è qualche bambino ha parlato di ansie c'è qualche bambino che si rifiuta di collaborare rifiuta tra virgolette sì succede succede soprattutto per i tre e quattro anni cinque anni in questo sono più maturi perché ovviamente l'età un anno nei bambini è tantissimo e a tre anni a quattro anni può capitare in quel caso la maestra di sezione aiuta il bambino in questo percorso lo incoraggia cercando di far aumentare la stima di sé e di far diminuire l'ansia da prestazione e a volte il bambino risponde bene a volte invece non si riesce comunque non lo fa il saggio ma anche in quel caso partecipa vicino alla maestra osservando e guardando gli altri amichetti quindi comunque sempre sulla linea del coinvolgimento totale della classe dei bambini quanti bambini avete impegnato quest'anno fra maschietti e femminucce quanti maschietti e quante femminucce dunque allora circa 75-80 bambini e diciamo che più della metà sono femmine e gli altri sono maschietti adesso il numero preciso non glielo so dire ecco in questo caso sono più brave le femminucce sono più aperte più portate alla recita al contatto anche con il pubblico diciamo con il pubblico dei genitori o i maschietti sì sì no le femminucce sono proprio più plastiche più capaci anche perché è proprio tipico dello spirito femminile no? quello di fare di esibirsi sì sì più le femminucce però ci sono anche dei maschi molto attenti molto capaci e che poi nel lavoro con tutta la classe sono capaci di dare moltissimo bambini che proprio non ti aspetti e che diventano dei piccoli ballerini piccoli attori è una cosa splendida ogni anno facciamo delle scoperte interessanti proprio a livello pedagogico vi divertite per voi è più un divertimento o un impegno e vi divertite più voi o più i bambini? allora parte come un impegno perché all'inizio quando poi ci mettiamo a tavolino e organizziamo il tutto lì è un impegno perché vuoi che tutto vada per il meglio vuoi che tutto sia il top sia il top e poi però invece diventa divertimento perché poi giorno per giorno quando proviamo quando ci riuniamo per insegnare filastrocche poesie canzoncine allora lì diventa un divertimento perché appunto lo si fa in maniera ludica portando guidando il bambino nella maniera più serena possibile e anche noi ci divertiamo ci distendiamo in questa cosa e ovvio sempre poi con la collaborazione e con la partecipazione delle famiglie che senza la loro vicinanza non potremmo Adelaide per concludere questi bambini vengono qui da voi l'Istituto Sacro Cuore iniziano magari a tre anni e a una certa età poi devono andare via ecco quando si interrompe questo rapporto voi insegnanti che sostanzialmente siete delle seconde mamme che reazione avete? Qual è il vostro atteggiamento? Guardi mi sento coinvolta perché i miei bambini quest'anno sono quelli che vanno via sì qual è la reazione? Intanto un po' di tristezza ti dispiace perché li hai accompagnati e hai tirato fuori tutto ciò che potevi fare cioè il meglio di loro e li hai accompagnati verso queste piccole acquisizioni prime acquisizioni traguardi quindi ti dispiace vederli andare via molti rimangono qui giustamente e continui a vederli altri ti auguri che ti vengano a trovare perché ti si portano via un pezzettino di cuore magari una lacrimuccia Vicente sicuramente sicuramente anche la lacrima perché veramente ci sta i bambini sono incantevoli e se ti piacciono se gli vuoi bene lo sanno riconoscere e ti vogliono bene poi in questa scuola veramente sono sempre si affidano questi bambini li vedi che ti si affidano completamente e senti la responsabilità della loro crescita e ti piace vederli come ha detto lei un po' come una seconda mamma vederli tirare fuori tutto ciò che di bello hanno dentro e che Dio gli ha dato Grazie per la visione